Due colpi di destro, una squadra che sa ciò che vuole, vero Scala? In effetti questa vittoria di oggi è una vittoria importante proprio dal punto di vista caratteriale. La squadra ha dimostrato di essere consapevole dei propri mezzi e di sapere aspettare il momento opportuno per chiudere la gara.